Il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio insieme al sottosegretario della presidenza Umberto D'Annuntis ha incontrato i rappresentanti dei comuni della fascia costiera colpiti da recenti mareggiate. Un incontro che i vertici della regione e Abruzzo hanno voluto per dar seguito alle difficoltà che sono state riscontrate in questi giorni da parte delle amministrazioni comunali alle prese con i danni ancora in corso di valutazione che rischiano di mettere in ginocchio l'intero settore turistico balneare della regione. La volontà dell'amministrazione regionale, hanno dichiarato Marsiglio e D'Annuntis, è stata sin dal primo momento quella di coinvolgere direttamente gli amministratori locali al fine di avere un riscontro diretto e una stima precisa di danni che sono stati causati dalla mareggiata.